Come ridurre lo stress? Ciao, è Luca Luna che ti parla dall'altra parte del microfono e oggi rispondiamo a questa domanda. Da un punto di vista logico è facile comprendere che non è utile stressarsi. Perché? Perché stressarsi è qualcosa che è successo nel passato o qualcosa che è successo nel futuro. Una grande maestra che ho avuto l'onore di conoscere decine di anni fa mi diceva Luca non c'è il leone nella stanza, ok? Molte persone sono in questo stato di agitazione anche se il leone non è nella stanza. Che cosa significa? Che nel momento presente non c'è il problema, tuttavia le persone si stressano. Quindi da un punto di vista logico intellettuale è facile da capire questa cosa, però poi all'atto pratico che cosa occorre fare? Allora bisogna ritornare sempre di più nel presente. Uno. Uno e come si fa questa roba qua? Molto semplicemente cerca di entrare in connessione con la natura. Molte persone sono ormai sconnesse da madre natura e questo genera disagio e quindi anche stress. Immagina il telefono, il telefonino. Il telefonino ha una certa vita, la batteria a un certo punto si scarica e che cosa occorre fare? Occorre metterla dentro la presa di corrente per ricaricarla. Bene, la stessa cosa succede con l'essere umano. Quindi l'essere umano è un po' come un cellulare, ha bisogno di ricaricarsi, ma la maggior parte delle persone non si ricarica. Quindi un corpo scarico, una mente scarica è più facilmente stressabile, ok? Quindi prima cosa cerca di rientrare in connessione con madre natura. Alimentati in maniera sana e naturale. Questo è un altro elemento. Perché? Perché devi avere un corpo sano, una mente sana. Riduci elementi piccanti nella tua vita per ritrovare la calma e la serenità. Cerca di ridurre l'aglio e la cipolla, ok? Quindi queste sono delle indicazioni di base per ritornare nella calma e nella serenità. Pratica meditazione, inizia a praticare meditazione. Su questo canale trovi delle meditazioni che ti possono aiutare a ritrovare la calma e la serenità. Quindi l'opposto dello stress è la calma e la serenità. Porta durante l'arco della giornata la tua attenzione al cuore, ok? Il cuore proprio fisicamente, quindi mettiti le mani sul cuore e respira, respira nel cuore. Perché il cuore? Perché il cuore è il centro dell'anima, il centro di Dio e quando tu sei è il centro del presente, del qui e dell'ora. Quindi se tu pratichi questo esercizio semplicissimo di metterti le mani sul cuore più volte durante l'arco della giornata, ritornerai al cuore, ritornerai al presente ed eviterai di fare il gioco della mente che ricorre sempre nel passato o nel futuro. Con questo non ti sto dicendo che non sia giusto occuparsi anche di questioni che appartengono al passato. È un po' la storia dei tre porcellini. I porcellini che avevano fatto una casa di cemento, il porcellino che aveva fatto la casa di cemento, si è preoccupato del futuro. È una cosa estremamente utile da fare, lo stress avviene a volte perché si cerca di mettere insieme troppe cose in una volta sola. Allora una cosa intelligente da fare è quella di avere un quaderno, un diario di bordo e pianificare le cose che occorre fare. Quindi ti renderai conto che molto spesso quando hai tante cose da fare ti sembrano immense fino a quando non le scomponi e non le metti nero su bianco. Quindi un suggerimento è quello di metterle nero su bianco e di dire esattamente, di comprendere esattamente i passi necessari da fare per riuscire a districare le cose che occorre fare. C'è un altro grandissimo insegnamento che dice se non puoi risolverlo perché stressarsi? Se puoi risolverlo occupatene, se non puoi risolverlo accettalo e impara ad accettare le cose così come sono. È un'altra grande lezione spirituale, quella di imparare ad accettare. Quindi hai queste due grandi opzioni. Uno, pianificare in maniera corretta le cose che sai che devi fare, metterle nero su bianco e scomporle, ridurle in piccoli pezzi. Una torta non la puoi mangiare tutta in una volta, devi mangiarla a bocconi. Quindi se tu pensi che ti devi mangiare tutta in una volta una torta, per quanto possa essere buona, però dici mamma mia che stress sta roba qui. Invece te la puoi mangiare a piccoli bocconi. E questa è una grande lezione. A piccoli bocconi. Quindi procedi con questa modalità. E se non puoi risolverla, accettala. Impara ad accettare le cose così come sono. L'altra cosa, come ti dicevo, è pratica meditazione. Praticala su base quotidiana. Ci sono delle indicazioni su questo canale che puoi seguire per praticare meditazione. Pratica meditazione su base quotidiana. Tutti i giorni. Almeno un minuto al giorno. Piuttosto che niente, le mie piuttosto. Se non puoi fare dieci minuti, un'ora. Molte persone vogliono fare tutto e subito. Altra grande questione di stress. No. Fai ciò che sei sicuro di poter fare in maniera inequivocabile, certa tutti i giorni. Quindi meditare un minuto al giorno. Sono sicuro che tu lo possa fare. Quindi inizia a meditare un minuto al giorno e ritorna al cuore. Con questo è tutto. Ti saluto. Noi ci vediamo al prossimo. C'era la mosca che ti stava salutando anche lei. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.